C'è il Consiglio federale, è la Lega, quindi giustamente ci si riunisce per organizzare i prossimi eventi, i prossimi momenti. C'è Pontida, manifestazione importantissima per noi, ci sono elezioni regionali, quindi è chiaro che il partito si deve organizzare in vista di questi importanti appuntamenti. Ci sarà Urbana Pontida? Non so, può essere così, adesso non abbiamo ancora tutto l'elenco di coloro che hanno accettato gli uniti, che verranno, però può essere. Però aspettate, l'ho aspettata. Aspetta, perché no? Angelo Bonanni ieri ha detto che non voterà la Comunità in Europa Raffaele. Questo non è un bel esempio che danno al Paese, perché nell'interesse dell'Italia sarebbe invece importante che tutti sostengano Fitto in un ruolo che sia un ruolo, un incarico di Serie A. Quindi questo è quello che bisognerebbe fare e che tutti dovrebbero fare. Come del resto il centro-destra ha fatto anche in passato, magari di fronte ad alcune figure come Gentiloni, questo pochiazzo. Bisogna lavorare tutti nell'interesse dell'Italia e non invece farne sempre una questione politica di divisione, di bandiere in questo Paese di cui sinceramente siamo anche tutti stani. Grazie. 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 Grazie.